In compagnia di Luigi Geronazzo, lei è assessore allo sport, alle attività produttive e al commercio di Portogruaro. Ormai stiamo andando verso l'ultimo anno di amministrazione, però stanno partendo diversi lavori, oltre a quelli già fatti. Ci puoi illustrare un attimo la situazione attuale sui lavori che state facendo a Portogruaro? Sì, questa estate è un'estate molto importante per il Comune di Portogruaro perché stanno partendo diversi lavori di opere pubbliche, molto importanti. Un lavoro che da tre anni che stiamo lavorando, parte la presso Sfatti che è vent'anni che è ferma, anche 30, da sempre è stata ferma grazie al decreto periferie del precedente governo. L'anno siamo riusciti a portare a casa i 5 milioni di euro per poter iniziare la presso Sfatti. Dopodiché esce il bando per fare il teatro, lì dobbiamo fare la platea di sopra, quindi un lavoro importante per la nostra città. La piscina, anche come assessore allo sport, la piscina è una cosa che ci teniamo molto, la piscina viene fatta con risorse proprie, risorse interne, senza andare a accedere a nessun tipo di mutuo, quindi il finanziamento è certo. Anche per tranquillizzare la gente, diciamo che la piscina a fine ottobre dovrebbe essere pronta per poterci rientrare e quant'altro. Dopo cos'è? Il palazzetto di Praia di Pozzo. Il palazzetto di Praia di Pozzo dovrebbe partire, anche questo dovrebbe partire a fine settembre. Insomma, opere molto importanti, queste sono le principali altre opere. Stiamo facendo le asfaltature, è partita l'illuminazione, quindi il frutto di questi quattro anni di lavoro per poter preparare una nostra città adeguata al turismo che arriva dalle nostre spiagge. Perché non dimentichiamo che siamo il primo entroterra, quindi o abbelliamo la nostra città, facciamo in modo che sia accogliente o altrimenti la cosa diventa molto più complessa e più difficile. Già che ci siamo lei è di Praia di Pozzo, le polemiche sul palazzetto si sono consumate, ma lei può spiegare un attimino, ha l'occasione di spiegare esattamente come stanno le cose? Guardi, i polemiche non ce ne sono, quella lì era l'unica location che si poteva costruire un palazzetto, quel palazzetto lì è stato costruito anche grazie a tutte le interrogazioni che ci hanno fatto i nostri consiglieri, sia di posizione che di maggioranza. Volevano un palazzetto adeguato per fare il patinaggio a rotelle, il patinaggio a rotelle si fa a Praia di Pozzo, non è mai stato contestato nessun'altra opera che negli ultimi trent'anni sono state fatte nelle frazioni, perché se le frazioni sono cresciute, e grazie anche perché le amministrazioni precedenti hanno investito nelle frazioni, perché pensiamo a Lugugnana, pensiamo a Sumaga, pensiamo a Giussago, perché anche a Giussago avevano un campo parrocchiale della parrocchia, è stato acquistato giustamente, perché ogni frazione deve avere il suo spazio pubblico che la gente potesse andare e divertirsi e fare il proprio sport.